Lo scandalo di padre Brown Capitolo 8 Il problema insolubile Questo strano incidente, forse il più strano dei molti che lo videro come testimone, accadde a padre Brown in quel periodo in cui il suo amico francese Flambeau si era ritirato dalla professione di criminale per intraprendere con grande energia e successo la professione del poliziotto. Infatti, sia come ladro che come acchiappa ladri, Flambeau si era specializzato in furti di gioielli, materia in cui era ritenuto universalmente esperto, tanto per l'identificazione dei preziosi quanto per quella dei ladri, argomento non di minore interesse pratico. Proprio in relazione a questa sua particolare abilità e a un incarico speciale che gli era stato affidato, pensò di chiamare al telefono il suo amico, il prete, la mattina in cui cominciò questa storia. Padre Brown fu ben lieto di sentire la voce del vecchio amico fosse pure per telefono. Sempre in generale e in quel momento in particolare, padre Brown non amava molto il telefono. Preferiva guardare la gente in faccia, sentire l'atmosfera sociale, perché sapeva bene che senza queste cose qualsiasi messaggio verbale può facilmente portare fuori strada, specie quando viene da persone sconosciute. Sembrava infatti che in quel particolare mattino una folla persone che gli era del tutto estranea gli ronzasse nell'orecchio dei messaggi più o meno indecifrabili. Il suo telefono pareva il demone dell'idiozia. Forse la voce che meglio distinse fu quella di un tale che gli chiedeva, se non gli fosse venuto in mente, di affiggere alla sua chiesa un avviso per offrire, dietro pagamento, regolari permessi di assassinio e di furto. E siccome questo individuo, sentendosi rispondere che non era il caso, aveva concluso il suo colloquio con una risata, si può presumere che non ne fosse troppo convinto. Seguì una voce sconclusionata e agitatissima di una donna che gli chiese di raggiungerla subito a un certo albergo che conosceva a circa 45 miglia sulla strada per la vicina città. Questa richiesta fu subito seguita da un'altra completamente opposta. Era la stessa voce che, questa volta, ancora più agitata e sconclusionata, gli diceva che non era più il caso perché non c'era più bisogno di lui. Seguì poi l'interludio di un'agenzia di stampa la quale gli chiedeva se avesse qualcosa da dire su quanto aveva già detto una famosa attrice del cinema a proposito dei baffi degli uomini. Poi una terza replica dell'agitata e sconclusionata signora dell'albergo. Diceva che, dopo tutto, era meglio che andasse. Ebbe una vaga idea che questa insistenza fosse dovuta a quell'agitazione e a quel panico che non sono ignoti agli esseri umani molto titubanti quando devono rivolgersi al giudice istruttore. Ma, infine, dovette ammettere di sentirsi molto risollevato quando la voce di Flambeau concluse la serie di telefonate con la cordiale minaccia di arrivare da lui per colazione. Padre Brown preferiva parlare agli amici comodamente seduto con la sua pipa, ma questa volta fu chiaro che il visitatore era sul piede di guerra e pieno di energia e aveva tutte le intenzioni di trascinare il piccolo prete con sé nella sua importante spedizione perché c'era una circostanza speciale che richiedeva per forza la sua presenza. Flambeau aveva avuto di recente parecchi successi importanti nelle indagini per furti di famose piete preziose. Aveva strappato la corona della duchezza di Dolwich dalle mani del bandito mentre questi se la stava svignando attraverso il giardino. Aveva atteso una trappola ingegnosa a un criminale che aveva realizzato il suo piano di far scomparire una famosa collana di zaffiri ma l'artista in questione si era portato via invece di quella la copia con cui il vero gioiello era stato sostituito. Per questo senza dubbio era stato invitato a sorvegliare la consegna di un tesoro molto diverso dai precedenti forse di maggior valore materiale ma che aveva anche un altro genere di valore un reliquiario di fama mondiale che si dicesse contenesse una reliquia di Santa Dorotea Martire doveva essere consegnato al monastero cattolico di una città e si sapeva che uno dei più famosi ladri di gioielli ci aveva messo gli occhi sopra presumibilmente più per l'oro e i rubini incastonati che per il suo valore agiologico. In questa complessa situazione c'era di certo qualcosa che suggerì a Flambeau la particolare utilità della compagnia del prete in un'avventura del genere. Comunque Flambeau si presentò respirando fuoco e ambizione elettrizzato dal piano per sventare il furto. Camminava a lunghi passi sopra il tappeto della camera del prete con il suo vecchio atteggiamento spaccone da moschettiere arricciandosi lunghi baffi. Non potete, gridò riferendosi alle 60 miglia di strada che c'erano per andare a Casterbury non potete permettere che un furto sacrilego di questo tipo si combia proprio sotto il vostro naso. La reliquia non doveva arrivare al monastero prima di sera e non c'era perciò bisogno che i suoi difensori arrivassero là più presto perché in realtà un viaggio in auto avrebbe portato via la maggior parte della giornata. Inoltre padre Brown fece incidentalmente osservare che sulla strada si trovava un'osteria dove avrebbero preferito far colazione dato anche che era stato invitato ad andarci non appena gli fosse stato possibile. Mentre attraversavano una zona piena di boschi e scarsa di abitazioni dove le osterie e ogni altro edificio sembravano farsi sempre più rari la luce del giorno cominciò a prendere la tinta e il carattere di un crepuscolo tempestoso sia pure nel pieno calore del mezzogiorno. Minacciose nubi purpure si erano raccolte sopra i boschi grigioscuri. Come accadde di solito nella spettrale tranquillità di una simile luce tutte le tinte del paesaggio acquistarono una specie di bagliore smorsato che non si riscontra di solito sotto la piena luce del sole. Le foglie gialle e rosse e i funghi color arancio sembravano bruciare di fuoco proprio. In quella mezza luce arrivarono a una radura del bosco che sembrava una gran breccia in un immenso muro grigio. Troneggiante oltre quella ecco un alto edificio dall'aspetto piuttosto esotico che portava il nome di Osteria del Dragone Verde. I due vecchi amici erano spesso arrivati insieme in qualche albergo o qualche altra dimora umana trovandovi delle situazioni davvero singolari ma di rado le singolarità si erano manifestate così in fretta. Infatti l'automobile era ancora a qualche centinaio di metri dalla porta che il suo colore verde scuro che si intonava perfettamente al verde scuro delle imposte dell'edificio alto e stretto. Quando questa si aprì con violenza ennescì una donna dai capelli rossi e arruffati che si precipitò nella loro direzione. Flambo frenò la macchina ma prima ancora che fosse del tutto ferma la donna cacciò nel finestrino una faccia bianca e tragica gridando siete voi padre Brown poi quasi senza tirar fiato chi è quest'uomo? Il suo nome è Flambo disse padre Brown tranquillamente che posso fare per voi? Venite dentro rispose lei con una foga eccessiva anche per simili circostanze. è stato commesso un delitto uscirono dall'auto in silenzio e la seguirono fino alla porta verde che si apriva verso l'interno dando su una specie di viale verde scuro formato da pali e pilastri di legno sormontati da edera e da viti dalle foglie quadrate scure e rosse di altri simili colori tetri. Questo vialetto a sua volta portava tramite una porta interna a una specie di grande salotto tutto decorato con trofei arugginiti di armi cavalleresche con mobili di stile antiquato e grande disordine nell'insieme sembrava di essere in un ripostiglio. Rimasero per un momento perplessi quando parve con una grossa trave di legno si levasse da terra per venire loro incontro tanto sdrucido e sguaiato era l'uomo che abbandonava uno stato di apparente immobilità cronica. Una volta mosso questo stranissimo uomo dimostrò un'agile cortesia anche se dava l'idea delle snodature di legno di un elegante scalappioli o di uno sequioso porta asciugamani. Tanto flambò quando padre Brown si accorsero di non aver mai visto un individuo così difficile da definire. Non era quel che si direbbe un gentiluomo ma aveva comunque qualcosa della polverosa raffinatezza dell'uomo di cultura. C'era qualcosa di déclassé in lui e tuttavia si poteva intuire che era più uomo di libri che Bohemian. Sottile e pallido con un naso a punta e anche una barbetta a punta aveva la testa calva ma una corona di capelli flosce e fluenti che gli cadevano sul collo mentre l'espressione del suo sguardo era quasi del tutto nascosta da un paio di occhiali blu. Padre Brown sentì di aver già visto individui del genere in qualche luogo molto tempo prima ma non riuscì a trovare un nome per definirli. Tutta la robaccia in mezzo a cui si deve era più che altro materiale letterario soprattutto pacchi di opuscoli del XVII secolo. È vero quel che dice la signora è stato commesso un delitto chiese serio Flambeau. La signora fece un cenno affermativo e impaziente con la sua testa rossa e scarmigliata. A parte per quelle chiome e spiritate aveva perduto un poco del suo aspetto selvaggio. Indossava un abito scuro di decorosa eleganza i suoi lineamenti regolari ed energici e qualcosa in lei davano l'idea di quella duplice forza di corpo e di mente che rende una donna dominatrice specie di fronte a un uomo come quello dagli occhiali blu. Però fu lui a dare la sola risposta articolata e ragionevole intervenendo con una grottesca galanteria. È vero che la mia infelice cognata spiegò proprio un momento fa ha avuto uno shock spaventoso che avremmo proprio voluto risparmiarle. Se almeno fossi stato io a fare la scoperta avrei avuto soltanto il disagio di dare la terribile notizia. Purtroppo è stata proprio la signora Flood a trovare il suo vecchio padre che già da tempo era ammalato e costretto a letto in questo albergo morto in giardino. In circostanze che non ammettono altre spiegazioni all'infuori di una morte violenta. Strane circostanze direi circostanze davvero stranissime e tossì leggermente come per scusarsi. Flambo fece un inchino alla signora ed espresse le sue sincere condoglianze poi disse all'uomo voi avete detto di essere il cognato della signora Flood? Sono il dottor Oscar Flood replicò l'altro mio fratello il marito di questa signora è in viaggio d'affari in Europa e così lei dirige l'albergo suo padre era semi paralizzato e molto avanti con gli anni non lo si era mai visto lasciare la sua stanza da letto e perciò queste circostanze così straordinarie avete mandato a chiamare il dottore o la polizia chi se flambò si replicò il dottor Flood abbiamo telefonato subito dopo la tremenda scoperta ma è difficile che possano essere qui prima di qualche ora questa casa è così fuori mano? la conoscono solo quelli che devono andare a Casterbury e oltre ecco perché abbiamo pensato di avvalerci della vostra preziosa assistenza fino a quando se dobbiamo darvi qualche assistenza lo interruppe Padre Brown con un fare troppo distratto per sembrare scortese sarebbe meglio andare subito a dare un'occhiata a queste circostanze si avviò meccanicamente verso la porta e andò quasi a urtare un uomo che proprio in quel momento stava entrando era un grosso giovanotto con i capelli scuri e scarmigliati che sarebbe stato un bel ragazzo se non fosse stato per una grave deformazione dell'occhio che gli dava un aspetto piuttosto sinistro che diavolo state facendo sbottò il nuovo venuto andate a dire a qualsiasi tizio caio o sempronio almeno dovreste aspettare l'arrivo della polizia per la polizia rispondo io disse Flambò con un tono di magnificenza e l'aria sicura di chi ha in mano la situazione avanzò verso la soglia e siccome era molto più grosso di quel grosso giovane e i suoi baffi erano formidabili come le corna di un toro spagnolo il ragazzone si ritrasse con l'aria smarrita di chi viene lasciato da parte il gruppo intanto si riversò subito nel giardino percorrendo il sentiero pavimentato verso un campo di gelsi solo Flambò sentì il prete che diceva al dottore sembra che non ci abbia troppa insimpatia vero? a proposito chi è? si chiama Dan disse il dottore con riservo mia cognata gli ha affidato l'incarico di curare il giardino perché ha perso un occhio in guerra mentre passavamo attraverso il campo di gelsi il giardino dava un'impressione di ricchezza e tuttavia di un fausto presagio che si nota quando la terra è più chiara del cielo nell'incerta luce solare le cime degli alberi che si innalzavano di fronte a loro erano pallide come fiamme verdi contro un cielo che si rabbugliava sempre più per la tempesta passando attraverso tutte le gradazioni di colore dal purpureo al violetto quella stessa luce disegnava lunghe strisce sui prati e sulle aiuole e tutto quello che illuminava sembrava misteriosamente più cupo e segreto le aiuole erano costellate di tulipani che sembravano gocce di sangue scuro qualcuno poi appariva perfino nero questa linea fiorita terminava con armonia in una pianta che padre brown in parte sotto la suggestione di qualche confuso ricordo si sentì subito disposto a identificare come quello che comunemente si chiama l'albero di giuda ciò che soprattutto richiamò al suo pensiero questa associazione di idee fu che uno dei suoi rami pendeva come un frutto essiccato il corpo sottile asciutto di un vecchio con una barba che uscillava al vento in modo grottesco in quello spettacolo c'era qualcosa di più orribile dell'orrore delle tenebre l'orrore della luce perché il sole capriccioso colorava l'aria e l'uomo di tinte vivaci come in una scena a teatro l'albero era fiorito e quel corpo umano aveva addosso una vestaglia verde scolorita e portava una specie di papalina rossa sulla testa ciondolante un piede era ricoperto da una pantofola rossa mentre l'altra era caduta e giaceva sull'erba come una macchia di sangue però neflambone padre brown fecero caso a questi particolari entrambi misero gli occhi su uno strano oggetto che sembrava spuntare dal centro di quella figura rattrappita e che poco a poco capirono essere l'elsa nera e originita di una spada del XVII secolo che aveva letteralmente trapassato il cadavere rimasero entrambi immobili a osservare un simile spettacolo finché l'inquieto dottor Flood sembrò spazientirsi ancora di più per il loro lungo indugiare quel che mi lascia perplesso disse schioccando nervosamente le dita è lo stato del cadavere e mi ha già dato un'idea flambo si era accostato all'albero e stava studiando con una lente l'elsa della spada ma per chi sa quale strana ragione in quello stesso istante il prete nella sua capricciosa perversità si girò di scatto su se stesso come una trottola voltando le spalle al cadavere e guardò nella direzione opposta appena in tempo per vedere all'altro estremo del giardino la testa rossa della signora Flood rivolta a un giovanotto scuro troppo scuro per essere identificato a quella distanza che in quel momento stava salendo in motocicletta e che subito svanì fra gli scoppi del motore che si allontanano a poco a poco poi la donna si voltò e si incamminò per il giardino nella loro direzione mentre anche padre Brown si voltava e cominciava la sua miticolosa ispezione dell'elsa della spada e del cadavere dell'impiccato quindi lo avete trovato soltanto mezz'ora fa circa disse Flambo c'è stato forse qualcuno da queste parti prima di allora voglio dire qualcuno nella sua stanza da letto in qualche parte della casa o qui nel giardino diciamo un'ora fa no rispose il dottore con sicurezza questo è il punto tragico della situazione mia cognata si trovava nella dispensa che è una specie di dependanza sull'altro lato della casa Dan era in giardino dietro la cucina che pure in quella direzione e io me ne stavo a rovistare tra i miei libri in una stanza che si trova proprio dietro a quella nella quale voi mi avete trovato ci sono due donne di servizio ma una era andata alla posta e l'altra era in solaio Flambo continuò molto tranquillamente e qualcuno di loro intendo qualcuno in generale si era mai trovato per una ragione qualsiasi a scontrarsi col povero vecchio gli volevano tutti bene replicò il dottore con solennità se c'è qualche incomprensione si è trattato sempre di cose da poco cose molto comuni al giorno d'oggi il vecchio era molto attaccato alle sue vecchie abitudini religiose mentre sua figlia e suo genero avevano forse vedute più larghe ma tutto questo non può aver nulla a che vedere con un dritto così orrendo e assurdo dipende da quante larghe o quante strette fossero queste vedute moderne commentò padre Brown a questo punto si sentì la signora Flood che mentre veniva avanti per il giardino chiamava il cognato con una certa impazienza quello corse verso di lei e così rimasero entrambi fuori dalla portata della voce nell'allontanarsi però il dottore dimenò le mani in segno di giustificazione e poi puntò un lungo dito verso terra troverete impronte molto intricate gridò con quella sua aria strana da imprenditori di pompe funebri i due poliziotti dilettanti si guardarono in faccia trovo parecchie altre cose intricate disse Flambo oh sì gli rispose il prete guardando fisso a terra con aria perplessa non riesco a capire riprese Flambo perché si debba tirare il collo a un uomo fino a farlo morire per poi prendersi il disturbo di piantargli una spada in corpo e io non riesco a capire gli fece eco padre brown perché si debba uccidere un uomo conficcandogli una spada in corpo e poi prendersi il disturbo di appendere il collo oh cominciate a fare il bastian contrario protestò il suo amico si capisce a prima vista che non l'hanno trapassato da vivo il corpo avrebbe versato più sangue e la ferita non si sarebbe chiusa in quel modo io capisco a prima vista disse padre brown spurtando verso l'alto che non è stato impiccato vivo guardate un po' il nodo e vedrete che è stato fatto così male che il giro della corda è troppo lontano dal collo perché l'uomo potesse rimanere soffocato quest'uomo era morto prima che gli mettessero la corda al collo ed era morto anche prima che gli infilassero la spada in corpo come è stato ucciso allora credo suggerì l'altro che sia meglio entrare in casa dare un'occhiata alla stanza da letto e a qualcos'altro ancora certo disse padre brown ma tra le altre cose non sarà male dare un'occhiata a queste impronte meglio cominciare dall'altra parte accanto alla finestra non ci sono impronte sul sentiero pavimentato eppure ci potrebbero essere come d'altronde ci potrebbero anche non essere ma ecco qui il prato proprio sotto la finestra della sua stanza ecco qui chiare come il sole le sue impronte scrutò le impronte e poi incominciò a ripercorrere ad agio il sentiero verso l'albero chinandosi di quanto in quanto poco dignitosamente per guardare qualcosa per terra alla fine tornò da flambeau e disse in tono petulante beh sapete la storia sta scritta qui molto chiaramente anche se non si tratta di una storia molto chiara non la chiamerei chiara precisò flambeau la chiamerei terribile bene disse padre brown la storia che è stampata molto chiaramente per terra con la forma esatta delle pantofole del vecchio è questa il vecchio paralitico è saltato dalla finestra e si è messo a correre lungo le aiuole parallele al sentiero eccitato per la gioia di farsi strangolare e pugnalare era così ansioso che a un certo punto si è messo a saltare su una gamba sola come un fanciullo spensierato ogni tanto facendo persino qualche dietrofront basta lo interroppe flambeau arrabbiato come diavolo potete pensare a una pantomima così diabolica padre brown alzò le sopracciglia indicando imperturbabile col dito i geroglifici che si vedevano nella polvere a circa metà strada c'è l'impronta di una sola pantofola e in qualche altra parte l'impronta isolata di una mano non potrebbe forse aver inciampato e poi essere caduto chiese flambeau padre brown scosse il capo avrebbe cercato di usare le mani e i piedi o le ginocchia e i gomiti per risollevarsi ma non c'è nessun altro segno di nessun tipo anche il sentiero pavimentato è molto vicino non ci sono segni anche se ce ne potrebbero essere nella terra fra le fessure e ora andiamo a dare un'occhiata alla stanza continuò padre brown entrarono per una porta non lontana dalla finestra della stanza da letto e il prete si fermò un attimo a osservare un normale manico di scopa appoggiato contro il muro un manico di quelle scope da giardino o ramazze che servono per raccogliere le foglie lo vedete? è un manico di scopa rispose flambeau con forte ironia è un errore lo corresse padre brown il primo errore che ho visto in questa strana vicenda salirono le scale ed entrarono per rendersi chiaramente conto dei fatti più importanti circa l'armonia e la disarmonia regnanti nella famiglia padre brown aveva sentito che si trovava in una famiglia cattolica decaduta era almeno in parte ormai costituita da cattolici decaduti e molto indifferenti i quadri e le immagini che si trovavano nella stanza del nonno dicevano chiaramente che quello che rimaneva di vera pietà religiosa era stato in pratica lasciato al vecchio e i suoi parenti erano diventati per una ragione o per l'altra di pagani però ammise che tale spiegazione era del tutto inadeguata anche per un delitto comune per non dire di un delitto straordinario come quello alla malora borbottò l'assassino è proprio la cosa meno straordinaria di tutta questa faccenda e proprio nel pronunciare questa frase il suo volto cominciò a illuminarsi flambeau era seduto su una sedia accanto al tavolinetto che si trovava vicino al letto del morto stava esaminando con volto oscuro e pensieroso tre o quattro pillole bianche che avevano trovato in un vassoio vicino alla bottiglia dell'acqua l'assassino o l'assassina disse flambeau ha qualche ragione misteriosa per farci credere che il morto si sia stato strangolato trucidato o entrambe le cose ma non è andata così perché ha voluto farcelo pensare la spiegazione più logica è che la vittima sia morta in un modo che possa essere in relazione con qualche particolare persona supponiamo per esempio che sia stata avvelenata e supponiamo che con ciò si tiri in ballo qualcuno che possa essere sospettato di usare veleni più di qualsiasi altro dopo tutto riflette padre brano sottovoce il nostro amico dagli occhiali blu è un dottore voglio esaminare molto accuratamente queste pillole continuò flambeau non vorrei perderle mi pare che siano solubili in acqua per fare un esame scientifico ci vorrà tempo disse il prete e potrebbe arrivare prima il medico legale vi consiglierei di non perderle se intendete star qui ad aspettare il medico legale voglio fermarmi qui fino a che non avrò risolto questo problema disse flambeau allora dovreste star qui per sempre gli spiegò padre brown guardando serenamente fuori dalla finestra ad ogni modo non ho intenzione di stare in questa stanza volete dire che non riuscirò a risolvere il caso domando al suo amico e perché non dovrei riuscirci perché non è solubile in acqua no e nemmeno nel sangue rispose il prete e cominciò a scendere le scale verso il giardino che intanto diventava sempre più buio arrivato là rivide quello che aveva già visto dalla finestra il calore afoso e la tinta plumbea del cielo in tempesta sembravano avvicinare sempre più il panorama le nubi avevano conquistato il sole che ora si vedeva solo attraverso uno squarcio che si rimpiccioliva sempre di più era un sole più pallido della luna nell'aria passò il brontolio del tuono ma ora il vento o l'aria non muovevano più una foglia e gli stessi colori del giardino non sembravano che ombre più buie dell'oscurità un colore però continuava a risplendere con una certa vivacità crepuscolare il rosso della capigliatura della padrona di casa che era rimasta là in piedi come paralizzata con gli occhi spalancati e le mani affondate nei capelli quella scena di eclisse con qualcosa di più profondo circa il suo significato riportò alla memoria di padre brown così tormentata nel dubbio il ricordo di alcuni versi mistici si trovò a mormorare tra sé un nascondiglio segreto tra i più selvaggi e incantati sotto una luna che tramonta era il luogo di una donna che piangeva per il suo satanico amante il suo mormorio si fece più agitato Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori ecco quello che è ecco a cosa assomiglia tremendamente una donna che piange per il suo satanico amante era esitante e quasi tremava nell'avvicinarsi alla donna ma parlò con voce normale continuò a osservarla con insistenza mentre la esortava a non lasciarsi abbattere a quel modo dagli aspetti accidentali della tragedia nonostante il loro orrore i quadri che si trovavano nella stanza di vostro nonno sono un ritratto molto più fedele di lui che non lo spettacolo orribile che abbiamo visto disse qualcosa mi assicura che era un buon uomo e non importa quindi quello che i suoi assassini hanno fatto del suo corpo oh sono stanca dei suoi santi ritratti e delle sue statue rispose guardando altrove perché non si difendono se sono quello che voi dite che sono ma qualunque facino roso può spaccare la testa della beata vergine e non gli succede niente dunque a cosa serve non potete biasimarci non osate biasimarci se abbiamo scoperto che l'uomo è più forte di Dio certo disse padre brown con molta dolcezza non è generoso fare una colpa a Dio della sua pazienza verso di noi Dio può essere paziente e l'uomo impaziente rispose lei magari noi preferiamo l'impazienza chiamatelo pure sacrilegio ma non potete farci niente padre brown fece un piccolo balzo strano sacrilegio esclamò e improvvisamente si voltò a guardare la porta con una nuova espressione di risolutezza in quel momento sulla soglia apparve flambeau pallido dall'emozione con un cartoccio in mano padre brown aveva già aperto la bocca per parlare ma il suo impetuoso amico lo precedette finalmente siamo sulla pista giusta di ridò flambeau queste pillole sembrano uguali ma in realtà sono differenti e lo sapete che nello stesso momento in cui l'ho scoperto quel brutto monologo di un giardiniere infilava la testa nella stanza e in mano aveva una pistola gliel'ho fatta saltare con un pugno e poi l'ho buttato giù dalle scale ma ora comincio a capire tutto se sto qui un altro po' arrivo in fondo a tutta la faccenda allora non ci arriverete in fondo tagliò corto il prete con un timbro di voce molto raro per lui non staremo qui un'altra ora non staremo qui un altro minuto dobbiamo andarcene subito cosa? gridò flambeau sbalordito proprio quando stiamo per venire a capo di tutta la faccenda ma che? state sicuro che siamo vicini alla meta perché hanno paura di noi padre brown guardandolo con un volto duro e impassibile disse non hanno paura di noi finché siamo qui avranno paura di noi quando non saremo più qui entrambi si erano accorti che la figura piuttosto inquieta del dottor flood si aggirava in quella caligine brumosa infatti a un tratto lo videro precipitarsi in avanti facendo gesti sfrenati alt ascoltate gridò eccitatissimo ho scoperto la verità allora potete dirla tutta la polizia ribattesse ecco padre brown arriverà fra poco noi dobbiamo andarcene il dottore sembra sprofondare in un gorgo di emozioni dal quale riemergeva di quanto e quanto con un grido di disperazione stese le braccia come una croce sbarrando loro la strada e sia gridò non vi inghennerò dicendovi che ho scoperto la verità voglio soltanto confessare la verità confessatela al vostro sacerdote gli rispose padre brown e si avviò a grandi passi verso il cancello seguito dal suo amico sbalordito prima che arrivasse al cancello un'altra figura di uomo gli tagliò la strada di corsa mentre Dan il giardiniere gridava parole di scherno contro i detectivi che scappavano dove c'era da lavorare sul serio mentre si svolgeva questa scena il prete riuscì a malapena a schivare un colpo vibrato con il calcio della pistola ma Dan non riuscì a schivare il poderoso pugno di flambeau che gli arrivò sulla testa come una mazza i due lasciarono alle loro spalle il signor Dan steso bocconi a terra sul sentiero e superato il cancello uscirono e salirono in silenzio sulla macchina flambeau non fece che una domanda e padre brown si limitò a rispondere casterburi ma dopo un lungo silenzio il prete osservò quasi quasi credo che la tempesta fosse solo in quel giardino come conseguenza di una tempesta dell'anima amico mio disse flambeau è un pezzo che vi conosco e quando mostrate una così assoluta sicurezza io vi seguo ma spero che ora non mi direte di avermi distratto da quel lavoro affascinante perché non vi piaceva l'atmosfera beh di certo era un'atmosfera terribile riplegò il padre brown con grande calma un'atmosfera spaventosa appassionata e opprimente e la cosa più spaventosa è questa che non ho visto nessun segno di odio qualcuno insinuò flambeau sembrava aver avuto poca simpatia per il vecchio già l'ho capito e mi ha colpito replicò il piccolo prete quasi con un grugnito ecco il punto più terribile di tutta questa faccenda si trattava di amore una maniera piuttosto curiosa di esprimere amore strangolare un uomo e poi infilzarlo con una spada osservò l'altro è stato l'amore ripete il prete l'amore ha riempito di terrori quella casa non ditemi protesta flambeau che quella bella donna è innamorata di quel ragno occhialuto no disse padre brown prima di grugnere di nuovo è innamorata di suo marito è una cosa spaventosa ma questo è un sentimento che vi ho spesso sentito raccomandare disse flambeau non potete certo chiamarlo amore illegittimo non in questo senso rispose padre brown poi si appoggiò sul gomito e parlò con nuovo calore credete che non sappia che l'amore di un uomo e di una donna è stato il primo comandamento di dio che è glorioso in eterno siete anche voi uno di quegli idioti che credono che non ammiriamo l'amore e il matrimonio è proprio necessario che mi raccontiate ancora la storia del giardino dell'eden e del vino di cana appunto perché la forza di questo sentimento è la forza stessa di dio si manifesta con l'energia tremenda anche quando spezza i suoi legami con dio quando il giardino diventa una giungla ma una giungla gloriosa quando la seconda fermentazione tramuta il vino di cana nell'aceto del calvario credete che non sappia tutte queste cose? certo che le sapete disse flambeau ma io non so ancora molto di questo delitto il problema di questo delitto non può essere risolto disse padre brown flambeau rimase muto per la sorpresa e fu il suo amico che riprese con perfetta calma vi voglio raccontare una cosa proprio curiosa ho parlato con quella donna quando era fuori di sé dal dolore ma lei non ha fatto cenno al delitto non ha mai parlato di delitto né mai vi ha fatto allusione quello che ripeteva con insistenza era sacrilegio poi con uno dei suoi guizi di incongruenza verbale aggiunse avete mai sentito parlare di tiger tyron? se ne ho sentito parlare esclamò flambeau diamine è l'uomo che ha messo gli occhi addosso al reliquiario è l'uomo che ha avuto l'incarico di acciuffare il gangster più audace e violento che sia mai capitato in questo paese irlandese si intende di quei pazzi irlandesi antichlericali forse appartiene a qualche diabolica società segreta comunque sia è certo che prova un gusto macabro a giocare ogni sorta di tiro sciagurato di quei tiri che sembrano anche più sciagurati di quanto non siano in realtà a parte questo non è poi la peste di rado uccide e mai per crudeltà ma gli piace fare tutto quello che può scandalizzare la gente specialmente la sua gente rubare nelle chiese di sotterrare scheletri e altre cose di questo tipo si disse padre brown non può che essere così avrei dovuto capirlo anche prima non vedo come avremmo potuto capire qualcosa dopo solo un'ora di indagini disse il detective come per difendersi avrei dovuto vederlo prima ancora che ci fosse qualcosa su cui indagare disse il prete avrei dovuto saperlo prima del vostro arrivo di stamattina che diavolo intendete dire ecco fino a che punto la voce per telefono viene estorpiata disse padre brown pensieroso stamattina ho sentito tutte e tre le fasi di questa vicenda e ho pensato che fossero sciocchezze prima mi chiamò una donna chiedendomi di andare a quell'albergo il più presto possibile cosa voleva dire naturalmente voleva dire che il vecchio stava morendo poi ritelefona per dirmi che dopo tutto non c'era più bisogno che io andassi e questo cosa voleva dire è ovvio significava che il vecchio era già morto era morto in pace nel suo letto probabilmente per un problema di cuore dovuto semplicemente all'età infine mi ha richiamato una terza volta per dirmi che dopo tutto dovevo andare e questo chi voleva dire questo ah questo è molto più interessante dopo un istante di pausa continuò tiger tyron che ha una moglie che lo adora si era attaccato a una delle sue folle idee un'idea però che era anche ingegnosa aveva sentito dire che eravate sulle sue tracce che conoscevate lui e i suoi metodi che avevate l'incarico di salvare il reliquiario forse anche saputo che sono vostro alleato ogni tanto voleva fermarci lungo la strada e il trucco per portare a termine il piano è stato quello di mettere in scena un delitto una cosa abbastanza orribile ma comunque non un delitto probabilmente ha convinto sua moglie con un ragionamento brutale pur sensato facendole capire che poteva sfuggire al carcere soltanto servendosi di un cadavere che in fin dei conti non avrebbe sofferto comunque sua moglie avrebbe fatto qualsiasi cosa per lui nonostante sentisse tutto l'orrore di quella macabra mascherata dell'impiccagione ecco perché ho parlato di sacrilegio la donna per così dire pensava alla profanazione della reliquia ma anche alla profanazione del cadavere il fratello è uno di quei pretenziosi scienziati ribelli che giocano con le bombe scariche un idealista da strapazzo ma è devoto a Tiger come pure lo è il giardiniere forse è un punto in suo favore che tanta gente gli sia devota è stato un piccolo particolare che mi ha subito fatto riflettere tra i vecchi libri che il dottore stava scartabellando c'era un pacco di opuscoletti del XVII secolo ho potuto leggere di sfuggito un titolo la vera descrizione del processo e dell'esecuzione capitale di Roy Stafford ora Stafford fu condannato nel famoso affare del complotto papista che cominciò con una delle più celebri vicende poliziesche della storia la morte di Edmund Barry Godfrey che fu trovato ucciso in un fossato il punto più misterioso fu che aveva su di sé i segni dello strangolamento ma era stato anche trafitto con la sua stessa spada mi era venuto subito in mente che qualcuno della casa avrebbe potuto prendere da lì l'idea non voleva commettere un delitto voleva solo creare un mistero poi ho visto che la cosa si adattava anche a tutti gli altri vergognosi particolari sono stati abbastanza diabolici ma non è stata pura diavoleria c'è stata una giustificazione perché dovevano rendere il mistero contraddittorio e complicato in modo da farci perdere il maggior tempo possibile a cercare di risolverlo o a capirne qualcosa così hanno tolto il povero vecchio dal suo letto di morte e se lo sono trascinati dietro facendo galoppare il cadavere facendogli fare dietro fronte tutte le cose che un cadavere non avrebbe mai potuto fare dovevano proporci un problema insolubile spazzarono via dal sentiero le proprie tracce ma dimenticarono quella della scopa e fortunatamente abbiamo capito il trucco in tempo voi l'avete capito in tempo disse Flambò io mi sarei attardato ancora un po' dietro alla seconda traccia quella manciata di piccole assortite beh comunque ce la siamo cavata concluse padre Brown che era ora a suo agio e questa suppongo aggiunse Flambò è la ragione per la quale stiamo andando a questa velocità alla strada di Casterbury quella notte nel monastero e nella chiesa di Casterbury accaddero avvenimenti che dovevano portare lo scompiglio nella segregazione monastica il reliquiario di Santa Dorotea in un fastoso cofanetto d'oro tempestato di rubini fu temporaneamente sistemato in una stanza secondaria vicino alla cappella del monastero per esservi portato più tardi in processione con una funzione speciale al termine della benedizione l'inestimabile gioiello era sorvegliato da un monaco estremamente agitato che faceva la guardia perché come i suoi fratelli sapeva che si aggirava nelle vicinanze l'ombra di pericolo che veniva da Tiger Tyron fu così che il monaco balzò in piedi in un lampo quando vide una delle grate delle finestre socchiudersi lentamente e attraverso la fessura un oggetto scuro come un serpente nero sporgersi verso l'interno il monaco allora vi si precipitò lo afferrò e si accorse che si trattava di una manica imbottita che terminava con un bel polsino e un elegante guanto grigio scuro senza mollare la presa si mise a gridare ma proprio mentre lo stava facendo un uomo balzò nella stanza dalla porta e afferrò il cofanetto che il monaco si era lasciato alle spalle sulla tavola quasi nel medesimo istante il braccio che si era insinuato dentro la finestra si staccò e rimase in mano al guardiano che si trovò a stringere l'arto imbottito di un fantoccio Tiger Tyron aveva giocato quel tiro altre volte ma per il monaco era una novità per fortuna c'era almeno una persona per la quale lo scherzo di Tiger non era originale e questa persona apparde con i suoi mustacchi battaglieri dritta come un gigante nel vano della porta proprio quando Tiger si voltava per scappare Flambeau e Tiger Tyron si guardavano fissi negli occhi e si scambiarono un gesto che sembrò quasi un saluto militare intanto padre Brown si era ritirato nella cappella a recitare una preghiera per diverse persone coinvolte in questi eventi incredibili era piuttosto sorridente e a dir la verità non disperava affatto riguardo alla sorte del signor Tiger e della sua deplorevole famiglia anzi era più fiducioso di quanto non fosse stato per molte persone più rispettabili poi i suoi pensieri si allargarono verso quei grandiosi orizzonti che gli offrirono il luogo e le circostanze contro i marmi neri e verdi sul fondo della cappella di stile rococco i paramenti rosso scuro pronti per la festa del martire facevano a loro volta da sfondo a un rosso ancora più di fuoco un rosso simile a quello dei carboni ardenti i rubini del reliquiario la rosa di Santa Dorotea gli venne ancora un pensiero che lo riportò agli strani eventi di quella giornata alla donna che aveva avuto terrore del sacrilegio di cui era stata complice dopo tutto pensò padre Brown anche Santa Dorotea aveva amato un pagano ma questo non era riuscito a dominarla e a distruggere la sua fede era morta libera e per la verità aveva poi mandato a lui le sue rose dal paradiso alzò gli occhi e attraverso il velo di fumo dell'incenso che avvolgeva le luci tremolanti delle candele notò che la benedizione si avvicinava al termine mentre la processione attendeva la sensazione di tutte le ricchezze accumulate dal tempo e dalla tradizione gli si fece sempre più vicina passandogli accanto come una folla che si muoveva in fila attraverso secoli interminabili lassù in alto soprattutto come una ghirlanda di fiamme perenni come il sole della nostra mezzanotte mortale lo stensorio fiammeggiava nell'oscurità di quelle volte ombrose come se splendesse contro il nero enigma dell'universo perché alcuni sono convinti che anche questo enigma sia un problema insolubile mentre altri hanno un uguale certezza che questo non abbia che una soluzione lo scandalo di padre Brown capitolo 8 il problema insolubile grazie a tutti